segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te su questo che vorrei chiedere al ministro di maio a proposito dell'inclusività della quale lui parlava se in questo perimetro di questa nuova coalizione che può nascere e della quale evidentemente ha parlato oggi con anche con sala e con letta c'è spazio ci potrebbe essere spazio anche per carlo calenda io credo l'ho detto anche in questi giorni che l'unità sia un valore in questo momento storico cioè noi abbiamo una legge elettorale ma anche per spiegarlo ai cittadini che è fatta per un terzo di collegi uninominali è scontro secco cioè chi prende un voto in più ottiene il collegio uninominale ovviamente non si fanno le alleanze in funzione della legge elettorale però se si fanno le alleanze non tenendone conto sicuramente si commette un errore di sottovalutazione quindi io credo che l'ho detto anche già in questi giorni più siamo uniti negli intenti e negli obiettivi meglio è e soprattutto secondo me si devono unire quelle forze che hanno messo tutto loro stessi tutto loro stesse per provare a evitare la crisi di governo che adesso provocherà per gli italiani una campagna elettorale in pieno agosto e delle elezioni anticipate che significa anche che non si riusciranno a gestire come si dovrebbe le crisi legate ai costi dell'energia ai costi dei prodotti alimentari ai costi legati alla benzina a tutti i costi per le famiglie italiane le bollette e dobbiamo necessariamente lavorare anche se poi la legge di bilancio si proverà ad approvarla con dopo le elezioni noi dobbiamo lavorare a sgravare l'iva il prima possibile a ridurre l'iva sui prodotti di prima necessità alimentari farmaceutici bambini perché l'inflazione galoppa e ovviamente c'è un governo in carica per gli affari correnti faremo tutto quello che serve per il paese ci prepariamo anche a fare un decreto importante per cercare di aiutare ancora le famiglie a combattere contro l'inflazione ma è veramente imperdonabile quello che è stato fatto perché quello che è successo con la crisi di governo sicuramente grida vendetta perché in questo momento noi ci ritroviamo con un governo in carica per l'ordinaria amministrazione nel periodo più straordinario della nostra storia dalla seconda guerra mondiale però conte poco fa ha detto tra